ragazzuoli siamo qui oggi per parlare di the boys l'ultima stagione la quarta che è stata veramente fenomenale se non di poco spettacolare e oggi vi andrò ad elencare tutte le cose positive che sinceramente mi sono piaciute ecco ma prima vi ricordo di seguirmi su tutti i canali social ragazzi mi raccomando cliccate il link in descrizione se volete usufruire dell'80 per cento di sconto su istangaming ragazzi mi raccomando ci sono tante offerte soprattutto quelle stive che da paura da paura signori oggi di che cosa andremo a parlare di the boys 4 ieri giovedì 18 luglio è stato l'ultimo episodio della quarta stagione di the boys che vi devo dire la verità dall'inizio è stato un po moscio perché diciamo ogni stagione è stato fatto così ovvero troviamo un modo per uccidere patriota poi dopo di che alla fine non si combina un cazzo compresa nella quarta stagione che però che però nel finale che adesso vi andrò a parlare è risultato un po più come dire interessante rispetto alle altre stagioni allora ci tengo a precisare che la quinta stagione che uscirà non so quando forse due anni dopo due tra due anni perché io vi ricordo che l'anno prossimo uscirà genv la stagione numero due quindi diciamo che va bene così la prima stagione di genv non l'ho vista tutta infatti me la devo rivedere da capo perché a quanto pare in questa stagione ci sono i personaggi appunto di genv quindi devo recuperarmela tutta e niente ragazzi io qui ho una lista di cose che vi dirò appunto di the boys 4 che mi sono piaciute e un po meno ok allora come ho detto la cosa che meno mi è piaciuta ovvero che partono dall'inizio che è moscio troviamo un modo di uccidere patriota e poi a finire con il finale esplosivo che vabbè in questa quarta stagione è stata molto molto particolare allora intanto iniziamo finale col botto ci sono successe tantissime cose molto particolari tra cui anche scoppia lacrime alcune cose che vi fanno incazzare alcune cose vi rendono felici eccetera ovviamente non si torna indietro da questa cosa quindi ormai si va solo avanti e saranno cazzi per tutti e come ho detto la quinta stagione sarà l'ultima perché a quanto pare la vogliono finire in bellezza non si sa quanti episodi saranno ma potremo già capire come finirà la quinta stagione che adesso vi andrò a parlare allora intanto ci tenere volevo dire anche un'altra cosa ovvero che la canzone finale che hanno messo per appunto in bellezza della finale di stagione è una citazione secondo me secondo me che mi piace moltissimo poi se non è una citazione ditano secondo me per me una citazione è una canzone che hanno fatto nel finale di un videogioco che è in famous second sonne è la stessa canzone se voi andate a vedere i titoli di coda in famous second sonne l'hanno messa uguale è la stessa canzone e mi piace moltissimo perché è una canzone che ho preferito in assoluto come soundtrack del gioco quindi molto 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 figo poi dopo di che come si strutturerà questo questa stagione 5 andiamo a parlare ripercorrendo la fase finale della stagione 4 allora nella stagione 4 newman a quanto pare muore e si ci sono degli spoiler ragazzi sticarsi a quanto pare newman muore e io non me l'aspettavo vabbè quel personaggio purtroppo non aveva niente a che fare in più aveva fatto tutto il possibile aveva dato tutto e nel modo peggiore per andarsene appunto muore per le mani di butcher che a quanto pare burgiare è stato presso in possesso della sua parte cattiva se vogliamo dire così e a quanto pare il suo super potere non è più di essere una similitudine di patriota con l'abbiamo visto nella stagione 3 ma a quanto pare il suo tumore è coordinato come il coniglio che abbiamo visto nei episodi precedenti quindi aveva questi tentacoli molto fighi tra l'altro e a quanto pare sono super oppi perché sa ucciso newman con molta facilità diciamo che non so cosa potrebbe fare compatriota butcher prende l'iniezione per infettare i super quindi un virus per i super e se ne va lasciando i the boys e va bene poi dopo di che abbiamo aspettate la parte finale dove i the boys fuggono perché ormai tutto è andato a puttane solo che vengono catturati dai ragazzi di jambu kimiko e oddio francis oddio non mi ricordo però beh comunque il personaggio che ragazzi non mi è piaciuto perché in questa stagione non ho capito un cazzo di questo personaggio vabbè però kimiko attenzione quando catturano francis francis scusate che francis francis mi è venuto in mente perché è francese capito parla prima o poi doveva parlare perché aveva un blocco kimiko non è che era muta dalla nascita aveva un blocco e grazie a francis che poi si sono anche baciati e prova bene grazie a francis lei è riuscita diciamo a parlare a legarsi di più e quindi a parlare e a me questo diciamo un po la lacrimuccia perché finalmente kimiko ha deciso di parlare e a rivelare i suoi sentimenti verso verso francis invece per quanto riguarda latte macchiato è stato catturato da un super che aveva un pisello enorme e non ho niente a dire su questa faccenda poi invece yuki e starlight ovvero enni vengono catturati dalla telepate che abbiamo visto nella seconda stagione di the boys quindi ok yuki viene catturato ma starlight riesce a fuggire in tempo volando perché in questa stagione starlight stava imparando a volare non ci riusciva però alla fine vedo che vola via e fugge invece butcher prende appunto l'inizione e va verso i super e quindi va verso patriota per ucciderlo una volta per tutte ma nel finale segreto si scopre che soldatino che abbiamo visto nella terza stagione è ancora vivo ed è imprigionato appunto e patriota lo va a vedere appunto ora non so come succederà la situazione con soldatino e patriota ma quello che potrebbe succedere nella quinta stagione ragazzi potrebbe essere un po profetico ma anche un po come dire facile da indovinare perché è stato preso tutto dai fumetti e nei fumetti si parla che butcher combatte contro tutti i super uccidendosi e sacrificandosi quindi secondo me adattandolo alla stagione potremmo vedere butcher che muore sacrificandosi e quindi uccide tutti i super tutti i super muoiono per via del virus e muore anche patriota muore anche patriota e ragazzi questa è una mia teoria secondo me ryan che è figlio di patriota e butcher chiamavano così ryan potrebbe essere una nuova generazione di supereroi buoni quindi non ci saranno più i cattivi i supereroi non ci saranno più con sentimento cattivo eccetera ma ryan può essere il buono con l'ultima stagione di appunto di the boys e quindi ryan può dare una nuova generazione di supereroi con con la bontà ecco quindi leva tutta la corruzione tutto eccetera l'unica cosa che mi viene in mente è che ashley ha prima di essere stata uccisa appunto dai super perché è stata nominata appunto per per una cosa che ha detto patriota si è inettato il gen ora non so chi cazzo è diventata però un mostro molto abnorme per visto che è dato la sua calvizia appunto vabbè non indugiamo oltre questa stagione è stata una bomba mi è piaciuta tantissimo a parte l'inizio che è stato un po moscio ma ci sono state alcuni veramente scene inaspettate tra alcune situazioni della marvel e della dc alzo le mani qui ho fatto pure rima niente voto per questa stagione otto e mezzo ora io mi aspetto veramente la morte di patriota nella prossima stagione perché mi sono veramente rotto il cazzo ogni volta pianificano e non ci riescono e va bene però fa parte della trama però va bene ok e niente aspetteremo la stagione che non si sa quando uscirà però prossimo anno 2025 esce la seconda stagione di jambu e io ripeto mi devo andare a vedere ancora la prima stagione perché non ho visto un cazzo quindi diciamo che ma la devo andare a vedere e niente grazie mille per aver visto questo video noi ci vediamo in un prossimo video ragazzuoli mi raccomando usufruite del link in descrizione per il codice sconto del 80% su vista in gaming ragazzi mi raccomando niente ci vediamo nel prossimo video e attenderemo a braccia aperte questo stagione 5 di the boys